ciak ecco perfetto vai non devo cominciare su piano, lavande no perché c'è l'obiettivo è giusto allora stai ferma così, 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 poi piglia così, piglia così, piglia così, yes, all right, do you stand the roll ballastaco, yeah, ecco, basta, giusto, senza scandata, no, perché un mene carabine è un tardista, in vita possibile, naturalmente, così, è giusto, così, perché se la metta così, ti inquadra, è giusto, oh, a così, e verso cà, ferma, 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 mano ferma, devo avere la mano ferma, e così, eh, cacossino, poi, ovviamente, cacossino, giustamente, un anguaggia di casa, no, piglia un, ecco, benissimo, hai visto, tanto di dopo piglia così, più così, perché caccia un luito, eh, ecco, così, basta, ecco, 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 hai visto, tanto di dopo, sì, sì, questo ne è toccato, lasciala sempre così, ecco, se facciamo tutta l'entrata, di, facciamo l'entrata della marina è uno spettacolo non è una cosa che è un po' non è un po' che scusse scusse guarda guarda che scusse guarda guarda Sì, sì, qua. ma c'è questo, costo io in nata così, davvero ma c'è questo, ma c'è il mare ma c'è il mare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti